Svolta nell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano di Farindola, sono stati infatti notificati questa mattina da parte della procura di Pescara presso la sede della prefettura della provincia di Pescara e del comune di Rigopiano 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell'hotel travolto da una valanga il 18 gennaio scorso e che provocò 29 morti e diversi feriti. Fra i nuovi indagati c'è anche l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo da una settimana trasferito a Roma dove andrà a svolgere le funzioni di direttore dell'ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Tra gli indagati ci sono il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e numerosi dirigenti pubblici. Tra i reati ipotizzati dalla procura della Repubblica di Pescara guidata da Massimiliano Serpi e dal sostituto procuratore Andrea Papalia ci sono a vario titolo quelli di omicidio e lesioni plurime e colpose, falso e abuso edilizio. Secondo quanto scritto all'interno dell'avviso di garanzia la morte delle 29 persone fu causata da asfissia, ostruzione delle vie respiratorie, compressioni del torace, violenti traumi contusivi e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura Crash Syndrome con partecipazione di un progressivo quadro asfittico, emorragie traumatiche, asfissie da valanga in presenza di basse temperature. Gli altri indagati sono Bruno Di Tommaso, Paolo Dincecco, Mauro Di Blasio, Enrico Colangeli, Pierluigi Caputi, Carlo Giovani, Vittorio Di Biase, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio, Andrea Marrone, Luciano Sbaraglia, Marco Del Rosso, Massimiliano Giancaterino, Antonio De Vico, Antonio Sorgi, Giuseppe Gatto, Giulio Onorati, Tino Chiappino, Leonardo Bianco, Ida De Cesaris.